amici di gossip news ben ritrovati io sono nato e questa è una nuovissima pillola di gossip rita rusic oltre ad essere una nuova produttrice cinematografica ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua partecipazione al grande fratello vip 4 ebbene ora la rusic è tornata al centro dell'attenzione ma questa volta per via della sua vita privata la presentazione del suo fidanzato infatti ha sorpreso tutti scatenando anche qualche piccola direi anche un po grande polemica ora vi racconto tutto nel dettaglio prima ovviamente vi invito come al solito a registrarvi al canale cliccate la campanella mettete un bel like sotto questo video se vi è piaciuto ma anche se non vi è piaciuto così sulla fiducia nell'ultime ore ritalusi ci ha pubblicato su instagram la foto del suo nuovo fidanzato in questo modo la produttrice ha voluto annunciare la sua nuova relazione nella foto rita è felice al mare insieme ad un uomo giovane e palestrato ebbè li sceglie bene la rita sembra che per il momento non si conosca ancora bene la sua esatta identità ma ciò che è certo è che ritorna abbia voluto mostrare tutta la sua felicità accanto all'uomo che ha incontrato sui social però ebbè che ve lo dico a fa però non sono tutti dello sta dello stesso avviso in tanti hanno chiesto ironicamente alla rusic se si trattasse di suo figlio rita ha infatti avuto due figli da vittorio cecchigori lo sapete la primogenita vittoria e poi anche il secondo marco l'ex gfina ha risposto con ironia alle domande dei follower che si domandavano se il suo fidanzato fosse suo figlio infatti rita ha commentato che non crede proprio che sia suo figlio no 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 molti hanno fatto notare la grande differenza d'età che c'è tra i due e molti quindi hanno duramente criticato la rusic per avere scelto un uomo che potrebbe essere suo figlio ma una manica di cavolini di bruxelles vostri no vabbè non sono mancate tante critiche ed anche sbagliati insulti ovviamente no stiamo parlando di socia stiamo parlando di umanità ma a differenza di quanto accaduto con le altre domande rita non ha risposto ignorando tutto ciò che bisognerebbe tutti noi imparare a fare sembra che infatti la produttrice rita abbia trovato la serenità al fianco della sua nuova fiamma e tutte le persone che la conoscono sono felici per lei soprattutto chi li vuole bene perché ragazzi quando vuoi bene una persona quando quella persona è felice te sei felice basta è semplice è semplice l'equazione i compagni che hanno condiviso con la rusic l'esperienza del gfv infatti si sono fatti sentire per congratularsi e per esprimere la loro felicità né 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 la sviolinata è proprio alla grande vabbè sempre tra i commenti del post su instagram il primo vero annuncio per la rusic si sono scatenate anche tante frasi molto dolci di approvazione da parte di coloro che conoscono bene la produttrice casualmente tutti i suoi ex coinquilini del gfv perché facciamo parlare un po di noi e ragazzi mi spiace io sono perfido a volte ci penso e se la penso ve la devo dire in particolar modo molti ex gfv l'hanno fatto tanti complimenti in primis christen corvaia che ha sottolineato la bellezza di questa nuova coppia insieme si è fatta sentire anche licia nunez che nunez spero che si dica così che aveva stabilito alla fine un buon rapporto nella casa più spiata d'italia con rita che ha commentato con grande entusiasmo che due insieme spaccano non si sa che cosa ma qualcosa spaccano non si è tirato indietro neppure fernanda alessa e fernanda c'è bisogno di ravvivare un po il gossip che ha lasciato sotto il posto una serie di emoticon infuocate manco la chiara è anche in questo caso per evidenziare la bellezza della passione della coppia inaspettatamente però non si sono fatti vivi per le congratulation soltanto gli ex partecipanti del gfv 4 ma anche altri personaggi infatti anche riccardo signoretti esperto di gossip direttore del settimanale nuovo ha lasciato un commento affettuoso e si è congratulato per la nascita di questa bella coppia adesso si è congratulato appena potrà sparare sulla coppia nel suo giornale sarà il primo a farlo battite a fidare dei giornalisti e mi ci metto pure io insomma in molti sono felici per lei la rusic non è nuova ad avvenimenti del genere ed è già finita nell'occhio del ciclone per essersi fidanzata con uomini più giovani di lei successe infatti anche ai tempi di riccardo oliveros olè quando i due si misero insieme rita fu duramente attaccato per aver scelto un toyboy ma lei fece sentire la sua opinione respingendo gli attacchi e spiegando che riccardo con una c volutamente era una persona più che adulta ragazzi dopo i 18 anni sei maggiore ne puoi fare quello che vuoi no di conseguenza era libero di compiere le sue scelte di decidere eventualmente di stare con una donna più grande di lui benissimo ragazzi la notizia ve l'ho data a questo punto la palla aspetta voi fatemi sapere se siete felici è una roba di vedere rita rusic al fianco del suo nuovo mar o non ve ne va frega de meno detto questo apro ufficialmente il televoto allora prima di proseguire vorrei dirvi anche una cosa vabbè sembra un po una cosa scontata ma se una donna vuole stare con un uomo molto più giovane di lei a noi che ce frega se all'uomo va bene alla donna va bene e allora va bene a tutti stessa cosa l'inverso perché sempre questa cosa che se un uomo sta con una donna più giovane allora sì va bene e un invece una donna non può stare con un uomo più giovane me lo spiega qualcuno perché voi ne parlavamo proprio prima no vi ricordi se mi avete seguito nella diretta precedente vi ho parlato di quanto sarebbe bello mondo senza idioti per intenderci eccoli eccoli ma come fa è utopia utopistico perché ragazzi la gente soprattutto sui social non vede l'ora di bersagliarti di romperti maroni di bobo 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 e vabbè si sfogano così raga va bene ciao regina lucia costa pinto ciao delle jacobelli si lei sarà di gomma ma sono problemi suoi enza ruggero ciao fortissimo grazie enza malica pizzo l'ur pizzo lo russo mi piace mi piace questo con un pizzo lo russo ciao malica ciao stefani aldo ciao di nuovo malica ciao maraca matari maraca matari ciao nate ciao malica ciao malica mani essere solo voi sei felice le si auguri sei felice lei sei felice lei siamo felici tutti allora esatto e che ce frega ma che c'è un po essi essi assolutamente allora malica tele voto è un modo di dire no puoi votare tele votare alla pagina 8 9 9 9 9 del tele video no no è una minchiazza che dico io per quando devo chiudere il la diretta ufficiale e passare alla diretta quella dove si va di solito al bar evidentemente magari temalica sei nuova allora visto che sei nuova ti ricordo che su questo canale mi trovi tutti i giorni alle sei più o meno verso le otto con queste notizie di gossi ma ti consiglio di non perderti anche il canale di coppia dove mi trovi tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13 insieme alla super mitica insuperabile giusi ciao elisabetta benissimo ragazzi a questo punto avete capito quindi rita rusic mi fa ridere perché gemma galgani dopo video parlare di gemma galgani gemma galgani va uomini non da 11 anni non ha ancora trovato uno scaccio dimoroso rita rusic che ha più o meno no no vabbè è un po più giovane ma non è non è di primo pelo neanche lei ne trova uno dopo l'altro no quindi cosa ti insegna tutto questo che se cerchi l'amore lo trovi basta cercarlo se non lo trovi vuol dire che non te ne può fregare meno giusto boh fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate allora un saluto a tutti detto questo detto questo adesso tra poco devo chiudere perché dopo l'ultima notizia da darvi e che riguarda proprio appunto la super miticona gemmona galganona chi mi ha seguito nella diretta oggi di con nata giusi lo sa già chi non mi ha seguito non lo saprà anzi lo saprà ma io ne parlerò perché voglio sapere anche le vostre opinioni detto questo ragazzi vi do l'appuntamento eccola un'altra chi 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 vi do appuntamento quindi tra cinque minuti sempre su questo canale con una nuova direttona stessa spiaggia testo ma detto questo ragazzi registratevi di cliccare la campanella mettete un like fate tutte quelle cosine che si fanno di solito con i canali youtube allora cristina cacciari ecco approfitto approfitto ti voglio dire questo cara cristina non posso io rispondere a tutti i commenti che mi scrivete né al di fuori delle dirette ti spiego anche perché io giusi gestiamo sei canali youtube se dovessimo rispondere a tutti i commenti che si iscrivono in sei canali considera che su ogni canale buttiamo su qualcosa come 5 6 video al giorno non ne verremo più fuori quindi io leggo tutti i vostri commenti cerco almeno quando sono qua in diretta però ragazzi sotto i video purtroppo non ce la faccio ritalusic quella che stava con vittorio c'è chi go ebbe si è sistemata bene la ragazzi infatti adesso fa anche della produttrice cinematografica chissà perché chissà perché cioè non si sentiva parlare della signora luce da tempo qual è la migliora scusa del toyboy questo detto se vuole essere con il giovane non può fare nessun impegnimento e noi siamo felici per lei e speriamo che se lo goda questo toyboy e per tutto per tutta l'estate magari anche per gli anni a venire benissimo ragazzi io devo chiudere ci vediamo tra 5 minuti stessa spiaggia stesso mare vi voglio bene e ci vediamo dopo ciao belli